Fine settimana intenso per le due squadre nissene di basket. L'invicta sarà di scena domenica pomeriggio al Palacanizzaro contro lo basket Messina, nel classico testa-coda tra la capolista e l'ultima in classifica. Sulla carta può risultare un test facile per la compagine nissena, ma gli uomini del coach Spena hanno lavorato intensamente durante la settimana e vogliono continuare nel loro trend di risultati positivi e continuare nel loro sogno di promozione. La Cusn, dopo la vittoria di domenica scorsa nel derby contro il Gela, continua la sua risalita in classifica a caccia della capolista Olimpia e lo farà a noto contro la polisportiva Salus Sport, in un match difficilissimo contro una squadra che si è rafforzata e che ha dato filo da torcere alla capolista. La squadra, capitanata da Davide Barbera, cercherà di uscire dal palatenta di noto con tutta la posta in palio, approfittando del turno di riposo dell'Olimpia. Basket, promozione, girone D, ottava giornata. Nuova città di Gela, la Fenice Basket. Polisportiva Salus Sport, Cusn, riposa, Olimpia.